salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme dopo tante richieste che mi avete fatto delle nappine sono velocissime e facilissime da fare ideali sicuramente per creare oggettistica varia tipo portachiavi orecchini e decorazioni varie ma soprattutto per utilizzarle nelle borse che siano in fettuccia in cordino o in cotone prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tiktok e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone rosso un ago una perlina perché vi farò vedere come inserire la perlina e delle forbici prendiamo il cotone potete utilizzare cotone fettuccia e qualsiasi lana li potete fare di qualsiasi materiale io li farò con le mani voi lo potete fare anche con un pezzetto di cartoncino per quanto le volete fare grandi quindi io utilizzerò queste quattro dita quindi metto il filo in questo modo e inizio non in forma stretta stretta a passare il filo attorno alla mano per 35 40 volte ho passato il filo per 40 volte guardate l'inizio e nella parte sotto e la fine la creiamo nella parte sotto quindi prendiamo le forbici e tagliamo il filo sfiliamo dalle mani guardate stando attenti come vedete la lavorazione resta rigida prendiamo un pezzetto di filo lo passiamo all'interno quindi prendiamo la lavorazione e passiamo il filo lo allineiamo e nella parte qua sopra dobbiamo fare un doppio nodo quindi dobbiamo fare così passiamo il filo la prima volta così e un'altra volta così quindi questo è un doppio nodo e stringiamo forte forte rifacciamo un altro nodino e abbiamo agganciato il nostro filo ora prendiamo le forbici e tagliamo qui la parte di sotto così questo è il nostro cappettino e questa è la nostra parte di tutti i fili ora dobbiamo dare prima di allinearli e di fare il nostro di legare qui per creare la nostra nappina dobbiamo dare una o pettinata oppure farlo direttamente con l'ago con qualcosa comunque per renderli più omogenei e quindi tutti a misura così prendiamo la nostra lavorazione la mettiamo così guardate e tagliamo tutti della stessa misura quindi tagliamo tutti i fili tenendoli così così ci verranno tutti dritti leviamo i fili in eccesso ora siamo pronti per creare il nostro per legarlo qui e quindi creare la nostra nappina quindi prendiamo il cotone non taglieremo il filo perché non sappiamo quanti giri vogliamo dare lo sistemiamo in questo modo e anche qui quindi lasciamo un pezzetto di sopra dobbiamo fare un doppio nodo quindi passiamo la prima volta facciamo il nodino e ripassiamo per la seconda volta vi posso assicurare che non c'è bisogno di tenere il dito la sopra perché non si allenterà per niente il nodino e stringiamo forte facciamo un altro nodo così e stringiamo dopodiché prendiamo il nostro filo che non abbiamo ancora tagliato dal gomitolo questo lo sistemiamo nella parte sotto e cominciamo a girare 3 4 5 6 7 8 io all'incirca l'ho fatto per otto volte tagliamo un pochino più lunghetto il filo e lo inseriamo nel lago così inserendo nel lago lo facciamo passare nella parte sopra e lo rifacciamo passare nella parte di sotto sistemiamo il tutto tagliamo i fili in eccesso pareggiamo tutto e abbiamo creato guardate la nostra nappina ora prendiamo la perlina utilizzando o un ago che entri nel buchetto della perlina oppure un uncinetto che passi all'interno ci tiriamo a una uno i due fili quindi prima ci agganciamo con uno lo tiriamo all'interno e lo tiriamo all'interno ci aiutiamo con le mani e abbiamo inserito la nostra perlina qui possiamo fare un nodino dove abbiamo inserito le due parti del filo così dopo di che qui all'estremità facciamo un nodino poi per appenderla possiamo inserire anche più di una perlina quindi facciamo un nodino prendendo tutti e due i fili così stringiamo tagliamo e abbiamo creato la nostra nappina con la perlina la spaziolliamo per bene potete aiutarvi comunque con un pettine e abbiamo terminato il nostro video guardate che sono belline sia senza e sia con le perline come avete visto il video è stato velocissimo e soprattutto molto semplice sono dei piccoli passaggi da fare non sicuramente complicati e potete sfoggiare le vostre nappine alle vostre borse ai portacellulari potete utilizzarli veramente per fare degli orecchini con le perline potete utilizzarli anche come portachiavi quindi inserire il gancetto del portachiave e fare ad esempio la nappina portachiave quindi non vi mancheranno sicuramente a voi le idee per realizzarli spero che il video vi sia piaciuto se così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video